E carissimi amici, carissime amiche, vorrei fare un video oggi di aggiornamento breve per il terribile omicidio di Vanissa Ballan, 26 anni, questa ragazza vicino a Treviso che è stata barbaramente uccisa da questo kosovaro qui che poi è stato quatturato che lascia un bambino di quattro anni, che lascia un marito che si erano conosciuti nel lontano 2012. Lei su Facebook aveva la data in cui si era messa insieme a Nicola, questo ragazzo che poi era diventato suo marito, 16 novembre del 2012. Insomma il nord-est è spesso protagonista di questi fatti di sangue. Ma questo giallo che ormai si avvia a soluzione perché sembra che non ci siano proprio dubbi su ciò che è successo, però ancora una volta dobbiamo fare delle considerazioni. Questo qui era stato un delitto annunciato perché era stato annunciato da mesi di vestazione. Il 26 ottobre era stata fatta una denuncia per Sturking e l'aveva fatta lei unitamente al marito. Il problema è che purtroppo c'era stata una storia, una breve storia, uno sbandamento, chiamiamolo così, circa un anno prima fra Vanessa e questo signore, ma da ciò, da quella che è una vicenda personale, che uno per un momento può avere uno sbandamento sentimentale, ok, e si era aperto nelle porte dell'inferno per questa ragazza che aveva sopportato minacce anche perché voleva tenere un po' protetto il suo matrimonio, il suo bambino. Quindi non voleva far sapere questa cosa al marito, quindi aveva subito minacce, minacce anche della diffusione di qualche foto o video, non si è capito bene, di loro due insieme. E quindi era un delitto annunciato. Quindi qui non è che si parla di patriarcato che qua c'è un parametro psicopatologico proprio difficilmente superabile. Abbiamo delle problematiche che non vengono superate con dei colloqui o con dei convincimenti. Purtroppo non c'è da fare niente contro questi personaggi deviate che anche sui social postavano dei video e delle foto così significative e pericolose. Era una persona molto pericolosa. Quindi il problema qui è che queste donne vanno salvaguardate con altri strumenti. Innanzitutto questo fatto della lentezza con la quale si agisce nel momento in cui c'è una denuncia, il fascicolo che passa da una parte a un'altra, ma voi sapete che non ci vuole niente perché si giungono a questi episodi. Lui, questo personaggio, era già entrato scavalcando il cancelletto qualche volta nell'abitazione, aveva minacciato più volte. Quindi la problematica qual è? È che innanzitutto da subito, dalla prima denuncia, bisogna mettere non solo un braccialetto elettronico, ma io direi due, perché uno per questo stalker, ma non con la presa in gira dei 500 metri, 400 metri, ma centinaia di chilometri, come pure una sorta di braccialetto, così come viene fatto anche a quella che è minacciata, che la persona può attivare, in qualsiasi momento si sente minacciata. oppure misure restrittive già dal primo episodio. Non è possibile ogni volta dire le stesse cose e stare a piangere ogni volta, ogni volta, perché poi si dice che era stata fatta la perquisizione a casa di questa persona, negli ultimi due mesi non c'erano stati episodi eclatanti. No, dal primo episodio di violenza, dal primissimo episodio di violenza, si deve agire o con il carcere o con l'allontanamento coatto di centinaia di chilometri e con questo braccialetto anche applicato alla persona minacciata, che lei, nel momento in cui si sente minacciata a qualsiasi titolo, può attivare per chiamare i soccorsi. Bisogna fare qualcosa di più, bisogna fare qualcosa di più. Non si può. Questa ragazza, questa splendida ragazza che tra l'altro è incinta di tre mesi di un altro bambino, non è possibile che sia stata lì nel paese per mesi e mesi a subire vestazioni. E questo soggetto è andato a casa sua ad ucciderla nel momento in cui lei non stava più al lavoro nel supermercato dove lavorava come cassiera perché si era messa in maternità e lui non vedendola più era andata lì e ha fatto quello che ha fatto. Perché? Perché precedentemente si regava al supermercato, entrava, stava sempre lì, minacciava e lo sapevano tutti e tutti giravano un po' la testa così nessuno pensava forse alle estreme conseguenze, ma noi non possiamo pensare alle estreme conseguenze solo quando dopo che sono successe. Quindi il problema è proprio questo, cioè non si può pensare che una donna una volta vissuta un'esperienza, un'esperienza relazionale con una persona a qualsiasi titolo, marito, moglie, amante, quella che sia, ognuno è libero nella propria vita di fare delle scelte e se ne assuma le responsabilità, però nel momento in cui una storia finisce, questa persona, la più debole ovviamente in questo caso, la donna che fisicamente è più debole, deve essere tutelata, ma non a chiacchiere, nei fatti. Quindi bisogna rivedere il codice rosa, bisogna rivedere questi strumenti che sono soltanto teorici. È inutile allora fare la denuncia, poi si fanno due o tre mesi di indagine. Nel frattempo le persone muoiono. Quindi, per ricapitolare, secondo me, o il carcere immediatamente al primo episodio, oppure l'allontanamento di centinaia di chilometri con una posizione obbligatoria del braccialetto elettronico, anche alla potenziale vittima, diciamo, anche a colei che subisce stalkeraggio, che lei stessa può attivare nel momento in cui ha sentute di qualche minaccia. Quindi, una persona deve essere completamente libera e tutelata, soprattutto. Tutelata davvero, non in questo modo qua, dove ci troviamo sempre poi a cospargerci il capo di cenere, quando ormai è troppo tardi. Quindi, questa è la mia riflessione di oggi per questo caso. Si dispiace, perché una splendida ragazza che aveva recuperato questo suo rapporto col marito, dopo un breve periodo così, magari di sbandamento, ma che capita sempre e comunque, aveva recuperato uno splendido rapporto, aveva un figlio e un altro in attivo, e viene ucciso da questo folle, costovaro, che così, insomma, ha regolato, diciamo, i suoi conti. E adesso non importa se va a prendere il gas, lo va a prendere 30 anni, ok. Imposta che questa ragazza non c'è più. Cosa fa lo Stato, oltre che fare delle leggi? Le deve applicare in una maniera, effettivamente, che abbia un senso, abbia un significato, abbia una efficacia, soprattutto. Ok, grazie, grazie amici miei, ci tenevo a dire questo. Quindi, per il momento vi saluto, condividete il video, diffondete il video, tra tutti i vostri amici, e, come dico sempre, un abbraccio a tutti quanti voi.